Poi in Italia noi abbiamo sempre questa voglia di replicare qualcosa che c'è all'estero. In realtà io credo che se questo governo manterrà tutte le promesse e non tradirà gli italiani, io non voglio tradire gli italiani, quelle proposte che oggi sono un volantino dei gile gialli sono già nei programmi e nel contratto di governo e saranno realizzate con la legge di bilancio. Questo bilancio dello Stato è di centinaia di miliardi di euro. Noi stiamo spendendo circa 15 miliardi di euro per mandare in pensione le persone e per trovare lavoro a giovani e meno giovani che non ne hanno, aumentando anche le pensioni minime e tutta l'attenzione è focalizzata su questi 15 miliardi di euro. Ma pensiamo alle altre centinaia di miliardi di euro da tagliare, da dismettere. Se noi non aumentiamo le pensioni minime, non mandiamo in pensione chi ne aveva diritto prima della Fornero, non diamo lavoro a chi non ce l'ha e non aiutiamo le imprese, alla fine la domanda interna non crescerà e il PIL non crescerà. Io penso che tutti i ministri abbiano il dovere di incontrare sempre le imprese. Certo, come ha detto il Presidente Boccia, adesso ci aspettiamo i fatti. Ieri hanno fatto le parole, i fatti si fanno al Mise perché sono il ministro dello sviluppo economico che si occupa delle imprese. Qui c'è la volontà di aiutare le persone. Io rivendico il coraggio di questo governo di affrontare dei temi anche insidiosi, ma finalmente per migliorare la qualità della vita degli italiani e dell'Italia. Grazie. Grazie a tutti.